Le consultazioni più lunghe di una quaresima potrebbero avere un epilogo in queste ore a Palazzo San Francesco. Nel bene o nel male, il sindaco Gianfranco Di Piero, sollecitato anche dai gruppi residuali della coalizione, sarebbe intenzionato a chiudere al massimo domani le trattative per formare la nuova giunta. Più che una sfida al Consiglio, come si era pure ipotizzato in precedenza, il primo cittadino ci riprova. Sul tavolo delle trattative almeno tre nuovi assessori, anche se la posizione dei Cinque Stelle sarà definita in giornata, e dei dieci punti programmatici per rilanciare l'azione amministrativa. Uno schema di governo cittadino per calmierare le varie richieste, ricostruire patti, equilibri, anche se su nomi e delega il cerchio va ancora chiuso. Di Piero in queste ore avrebbe blindato. Il consigliere comunale Gianluca Petrella, subentrato in assise al posto di Andrea Gerosolimo e Massimo Di Paolo, e con lo stop alle trattative prova a riprendersi qualche consigliere. A riguardo Teresa Nanarone aveva dichiarato apertamente di non accettare diktat dal PD, che avrebbe dato carta bianca al sindaco, ma la vorrebbe in giunta. Inoltre la stessa tende di conoscere eventuali nomi, deleghe, punti, della giunta del sindaco, voci di corridoio farebbero presagire anche una trappola, nel senso che non escluso che in casi di surro che in quota PD il primo de non eletti sarebbe disposto a entrare in consiglio. Ciò vorrebbe dire che tornerebbe in auge il quasi ex assessore Franco Casciani. Ma per i diretti interessati tale ipotesi non è proprio vicina alla realtà, fermo restando che nessuna disponibilità di un ingresso in giunta al momento è arrivata dalla Nanarone. Insomma ci siamo quasi, per usare le parole dei più vicini a Di Piero, ma serve ancora qualche ora per trovare la quadra, per andare dove e con chi è ancora tutto da definire. Fu sera, fu mattina, ventitresimo giorno. Il Comune di Popoli concede terreni di sovroprietà alla SNAM per la realizzazione del metanodotto Sulmona-Foligno. Il Via Libera è arrivato con una delibera adottata dal Consiglio Comunale, attraverso la quale viene concessa la servitù di gasdotto a favore della multinazionale sui terreni di proprietà dell'ente. Con lo schema di convenzione, approvato sempre tramite delibera, viene inoltre stabilito che la SNAM sarà tenuta a versare al Comune di Sulmona la somma di 37.100 euro, una tantum a titolo di indennità, nonché a farsi carico delle necessarie spese di frazionamento catastale, di stipula dell'atto di costituzione della servitù, di registrazione e trascrizione come previsto dalla legge, nonché delle ulteriori spese necessarie alla realizzazione degli eventi manufatti necessari a garantire l'esercizio della servitù per i quali dovranno essere acquisiti i titoli abitativi previsti dalla legge. Un passaggio prettamente formale, come spiegano dal Comune. La SNAM quindi continua a avanzare sul territorio nonostante la battaglia istituzionale. La scorsa settimana il Comune di Sulmona aveva impugnato il provvedimento del Comitato di coordinamento regionale per la valutazione di impatto ambientale che ha autorizzato i lavori per la realizzazione della centrale di compressione SNAM in località Casepente a Sulmona. Si tratta di un'altra opera strettamente collegata col metanodotto, i cui interventi sono partiti senza la valutazione di impatto ambientale, almeno secondo Comune di Sulmona e Comitati. Il Paese resta senza guardia medica. Accade a Pescasserole il capoluogo del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, che deve fare conti con le carenze della sanità sul territorio. Per questo il sindaco Giuseppe Sipari ha richiesto un incontro immediato ai vertici dell'azienda sanitaria. Non solo guardia medica assente, ma anche servizio di 118 a giorni alterni, a tutto svantaggio dei pazienti e degli utenti che devono recarsi a Castel di Sangro a Teramo più volte in maniera continuativa, con gravi ripercursioni in termini di salute e in termini economici. La situazione della guardia medica sta creando nella nostra collettività allarme e preoccupazioni, più in generale in tutte le aree del Parco. La SNAM, la strategia dell'area interna, può rappresentare una speranza per noi, perché rappresenta un'analisi, una progettazione, una pianificazione di una serie di servizi che vanno dalla sanità, dalla scuola e dalla pubblicità, che possono rappresentare uno strumento fondamentale per evitare la scuola. In alcuni periodi dell'anno la presenza turistica è massiva, si registrano anche 60-65 mila presenze al giorno e questo rende appunto il servizio sanitario fondamentale per la sicurezza di tutti. Si dovrà attendere gennaio 2024, comunque primi mesi del prossimo anno, per vedere operativo e cantiere della riqualificazione complessiva del Parco Fluviale a gusto da olio. La notizia dell'invenimento di 100 grammi di cocaina e di un bilancino di precisione all'interno dell'aria da parte della Guardia di Finanza ha fatto emergere uno spaccato dello spaccio tra giovanissimi non più trascurabile, ma anche un degrado che non si addice a un polmone verde pensato, strutturato per lo svago di giovani, famiglie e bambini. Lo scorso 10 settembre il Comune aveva affidato la progettazione esecutiva e lo svolgimento dei lavori, un appalto combinato che probabilmente non produrrà i suoi effetti nell'immediato. Per questo va pensata una soluzione tampone per custodire il bene. Il progetto prevede la realizzazione di un ponte di collegamento tra l'aria camper e parco fluviale, miglioramento degli accessi pedonali, la realizzazione di un bel vedere sulla circonvalazione orientale nei pressi di Porta Pacentrana, la realizzazione di una pista ciclopedonale che dalla chiesa della Madonna Pellegrina arriva fino al ponte di Santa Liberata in via Fiume, oltre alla ristrutturazione di tutti i fabbricati esistenti. Il costo complessivo dell'opera monta 3.740.000 euro in parte ottenuti dalla passata amministrazione, un progetto di riqualificazione denominato Acquavella, che rivoluziona l'assetto urbano della città, comebbe a rimarcare il vice sindaco Franco Casciani. Nel frattempo il parco affonda nel degrado tra droga e assenza di sorveglianza nella zona sud, non proprio il massimo per i pomone verde ormai da rianimare. Dal comune attendono la consegna della progettazione esecutiva, si dovrà inoltre pensare a un bando di gestione, il grande assente degli ultimi anni. Verificare se la prescrizione di una terapia antibiotica poteva evitare la morte del feto e chiamare in causa un esperto di malattie infettive, sono queste alcune delle richieste sulle quali si fonda l'opposizione alla richiesta di archiviazione di una 33enne di Prato Laverigna, che 1 luglio 2021, all'ottavo mese di gravidanza, aveva perso la bimba che aveva in grembo, esattamente 10 giorni dopo l'inoculazione, del vaccino trivalente. La donna per il tramere dell'avvocato, Vincenzo Margiotta, ha chiesto al GIP di approfondire la delicata vicenda, poiché a suo dire sarebbero emersi alcuni bullos in fase di indagini preliminari. Primo fra tutti, la mancanza di una perizia redatta da uno specialista in malattie infettive. La 33enne ha chiesto al GIP di acquisire ulteriori sommari informazioni dei medici, acquisire il rapporto vaccini-AIFA 2021 e incaricare uno specialista di malattie infettive per svolgere un'ulteriore perizia, al fine di accertare se vi sia un legame tra il parto prematuro e la corioamniosite, accertata in serie di esame necrologico sulla placenta. E ancora se con una cura antibiotica, l'evento morte si sarebbe potuto evitare e in che termini? La procura ha chiesto l'archiviazione per i due medici indagati sulla scorta di quanto relazionato dei periodi di parte, secondo i quali il ginecologo avrebbe dato l'indicazione alla vaccino profilassi per la pertosse, come da raccomandazione ministeriale e il medico vaccinatore avrebbe eseguito il booster, come previsto dalle stesse linee guida. Entrambi hanno rispettato, secondo le risultanze della perizia, l'informativa del novembre 2019 relativa alla pratica vaccinale nel corso del terzo trimestre di gravidanza relativo alla pertosse. In caso di soggetto non vaccinato prima, peraltro, non esistono controindicazioni all'utilizzo del booster anche all'ottavo mese di gravidanza, in quanto lo stesso è composto dalle stessi toisoidi per tetano, difterite, per tosse. Per la donna le indagini non sarebbero complete, dal momento che nessuno dei due feriti incaricati dalla procura risulta avere competenze specifiche in malattie infettive, da qui l'opposizione alla richiesta di archiviazione con la richiesta di nuovi accertamenti al giudice il compito di sbogliare la matassa e fissare l'udienza. Due feriti di cui uno grave, e questo è il bilancio di altrettanti incidenti stradali che hanno coinvolto nella giornata di ieri due motociclisti, nel reparto di rianimazione del nosocomio dell'Annunziata, ricoverato in 47enne che all'altezza di un distributore di benzina sulla statale 17, territorio comunale di Pescasseroli, avrebbe perso il controllo della moto a seguito di una brusca frenata fino a essere trascinato per qualche metro sull'asfalto a causa dell'urto. Da primi accertamenti è emerso che il motociclista non si sarebbe accorto che sulla carreggiata stava circolando una Fiat Panda da cui la brusca frenata, la rovinosa caduta. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Casteldisangro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Fortunatamente il centauro non sarebbe in pericolo di vita, ma viste le ferite riportate, i medici dell'Annunziata hanno deciso di ricorrere alla terapia intensiva. Il quadro clinico risulta costantemente monitorato, in ospedale, sempre a Sulmona, è finito anche un quarantenne di Alfedena, anche lì protagonista di un incidente. In moto avrebbe fatto tutto da solo, rimediando una prognosi di 30 giorni. Via risarcimento danni per gli utenti dell'area Peligni, a cui i dati sono stati trafugati nel recente attacco hacker che ha messo in ginocchio i server dell'Asla, Vezzano-Sulmona-L'Aquila, gli avvocati del Foro di Sulmona, Katia Puglielli e Alessandro Margiotta, hanno dato il via in questi giorni alle stanze di risarcimento, inaugurando di fatto la fase 2 di una vicenda che ha segnato e non poco diverse categorie di utenti, soprattutto i fragili, un'attività legale che è scaturita dall'ultimatum del garante della privacy che lo scorso 15 giugno aveva ordinato l'azienda sanitaria ad inoltrare le comunicazioni con le relative fasce di grischio ai soggetti che hanno subito l'acheraggio. Nel caso in cui la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone, la normativa privacy prevede infatti l'obbligo di comunicazione del data breach all'interessato, senso ingiustificato ritardo. L'informazione però deve essere differenziata sia nelle modalità che nel contenuto, in funzione del potenziale lesivo e dei canali a disposizione. Le misure che aveva intrapreso l'Asla non consentono invece, secondo il garante, di informare efficacemente tutti gli interessati, specialmente quelli per cui il rischio è stato valutato come critico alto. Da qui le attestazioni dei dati trafugati che, come ricordano Puglielli e Margiotta, diventano un elemento probatorio per l'istanza di risarcimento danni. L'attacco hacker, senza precedenti storici, risale al 3 maggio scorso. È andato avanti per oltre un mese, con conseguenze anche attuali, se si considera ad esempio che i terminali del CUP subiscono dei rallentamenti a cadenza settimanale. Ora gli avvocati, per conto degli utenti peligni, battono cassa alla Asla. Notevole successo al Teatro Comunale Maria Caniglia per la cinquantesima edizione del Premio Sulmona, rassegna internazionale di arte contemporanea. Un'edizione speciale, quella ideata dal Circo di Arte e Cultura del Padrivio, che accanto alla tradizionale mostra, con le migliori proposte dell'arte contemporanea di questi ultimi anni, ha celebrato con la consegna di riconoscimenti ai 50x50 alcuni degli artisti premiati nelle edizioni dal 1973 al 2022 e più gli artisti partecipanti all'edizione attuale. Allo stesso tempo il Premio di giornalismo è stato caratterizzato dalla presenza di importanti firme della cassa stampata, della radio, della televisione del web. Premiata la vice direttrice del Tg2, Maria Antonietta Laspadorcia, la giornalista e conduttrice di Tagadà, La Sette, Tiziana Panella, il vice direttore di Hot Post Italia, Alessandro De Angelis, la giornalista e conduttrice televisiva Anna La Rosa. Una manifestazione che dopo 50 anni dimostra intatto tutto il suo valore culturale, ancor più accresciuto dalla nuova struttura solida e radicata nella società, come ha scritto Vittorio Sgarbi nel voluminoso catalogo. Sgarbi rappresenta la manifestazione con numerose autorità, tra cui il Presidente della Regione, Marco Marsilio. La cerimonia è stata condotta dalla giornalista Chiara Buccini ed ha visto anche alcuni momenti musicali con gli interventi di Antonella Bucci, Mauro Bengali e Silvia Licenzo. Alla manifestazione organizzata dal Circolo di Arte del futuro del quadrivio di Sulmona sono stati invitati 150 artisti italiani e stranieri. Le opere potranno essere visitate nel Polo Museale Civico Giocesano, nell'ex convento di Santa Chiara Sulmona, dal 14 ottobre al 5 novembre. Presidente, un'edizione particolare questa. Sono 50 anni, 50esimo anniversario. Un bilancio della partecipazione a questa edizione. Quest'edizione è 50 anni, perché 50 anni è un'impresa. Comunque cominciamo col dire 50 anni e non sentirli, perché il premio si è ringiovanito proprio in queste ultime edizioni. Sia dal punto di vista dell'età anagrafica dei suoi partecipanti, dei suoi collaboratori, dei suoi artefici in realtà, e sia per la forma che è cambiata. Quest'anno abbiamo un solo appuntamento, questo qui del teatro, che dà la stura all'intera manifestazione, ma che non è né l'apertura né la chiusura, ma una serata d'onore per tutti coloro che hanno partecipato nell'arco di questi 50 anni al premio Sulmona. Signor Sindaco, 50 anni, sono scritte lì dietro di lei, 50 anni del premio Sulmona. È veramente un compleanno importante questo. Sì, è un traguardo particolarmente significativo e quella di questa sera è una manifestazione che ha una sua peculiare solennità. 50 anni di lavoro intenso, promosso dagli organizzatori. Noi ricordiamo sempre con grande nostalgia il maestro Gaetano Pallozzi, il presidente Olindo Pelino, il fondatore Angelo Scalzitti, che diede via al premio Sulmona delle Arti. E adesso salutiamo il consiglio direttivo, il professor Gian Antonio, che ha raccolto negli ultimi anni questa significativa e pesante eredità. Devo dire che l'amministrazione comunale è particolarmente lieta di presenziare a questo evento perché il premio Sulmona, a buon diritto, si inserisce nel novero delle grandi manifestazioni culturali di questa città. La città è grata al premio Sulmona per averle dato prestigio e per il contenuto in sé della manifestazione culturale, oltre che per il fatto di aver contribuito a promuovere il nome e l'immagine di Sulmona ben oltre gli angusti confini locali e regionali. Quindi un compleanno importante, un traguardo particolarmente significativo che deve costituire semplicemente la premessa di ulteriori tanti anni di attività, quale segno della capacità di questa nostra città e delle sue inesauribili risorse culturali di mobilitarsi in direzione della cultura, della promozione e dell'elevazione culturale e spirituale della nostra comunità. Maria Antonietta Sfadorcia, giornalista, vice direttore alla RAI, mi pare, del TG2. Ecco, riceverà un premio questa sera, soddisfatta, contenta? Molto, molto felice, anche perché poi capita nel cinquantesimo anniversario del premio Sulmona, che è un riconoscimento prestigioso che poi mi arriva dalla mia città e quindi la felicità è doppia. Lei non è la prima volta che sta in questo teatro, è vero? O mi sbaglio? Io ci sono cresciuta in questo teatro e ci ho passato tutta la mia adolescenza, per cui ecco, è un ulteriore motivo di emozione. È un grande motivo di soddisfazione, ma è una grande felicità. Essere premiata, di solito si dice nemo profeta in patria, invece questa volta il riconoscimento arriva dalla mia città, dal luogo dove sono cresciuta e a cui devo tanto anche per il percorso che ho fatto dopo. Onorevole Alberto Bagnai, è un'occasione molto importante questa, non solo per Sulmona, ma per l'Abruzzo intero. Qual è la sua opinione su questo cinquantesimo anniversario? È un traguardo molto importante, raggiunto da una manifestazione che rafforza l'identità dell'Abruzzo non solo come custode di una grande tradizione culturale, ma anche come laboratorio di elaborazione culturale. Un ruolo che l'Abruzzo ha e che deve rivendicare nel panorama nazionale e quindi benvengano occasioni come queste che aprono l'Abruzzo al panorama nazionale, coinvolgendo nella cornice del teatro di Sulmona delle personalità sia del mondo artistico che del mondo dei media. Ma intanto si conferma una manifestazione di grande prestigio, di grande livello, che pone all'attenzione del panorama dei premi Sulmona, come brillantemente fatto oramai per 50 anni, quindi non possiamo compiacerci e rilasciare anche un sentimento di gratitudine al nome della provincia dell'Aquila, agli organizzatori, alla città di Sulmona. Presidente della Regione Marco Marsilio, Presidente, innanzitutto benvenuto, grazie. E poi un suo giudizio su questo cinquantesimo anniversario di un grande premio. E' tanto complimenti, un premio che raggiunge 50 edizioni non è usuale, non capita spesso, quando capita vuol dire che ci sono radici importanti e profonde, d'altronde Sulmona è città d'arte, città di cultura, è un binomio indissolubile quello della cultura e della città di Sulmona, per questo faccio rinnovo i miei complimenti agli organizzatori, alla città nel suo complesso, a questa splendida comunità peligna che ha saputo tenere viva questa tradizione. Ho visitato al Convento Santa Chiara anche la mostra, assolutamente interessante. Siamo qui anche perché come massima rappresentante dell'istituzione regionale voglio onorare questo impegno e questo risultato importante del cinquantesimo anniversario. Credo che lo meritino e che debba essere sottolineato anche con una doverosa presenza istituzionale. Antonietta Laporta, consigliere regionale. Abbiamo assistito a una bellissima manifestazione. Grande veramente. Sono 50 anni che questo premio ormai va avanti. Un suo giudizio così spassionato. 50 anni del premio Sulmona, un premio importante. I 50 anni sono importanti ma non sono un traguardo. Sono soltanto un percorso già fatto, pieno di successi, di grande visibilità per la nostra città. Un insieme di creatività, di idea, di maestria. Veramente gli organizzatori hanno fatto davvero un gran bel lavoro. Quindi lunga vita al premio Sulmona. Importante non solo per Sulmona, non solo per il circondario, non solo per l'Abruzzo, ma ormai un premio veramente a livello nazionale sicuramente importante. A presto. Grazie a tutti.